Parliamo di patologie che impattano sulla salute dei cittadini e sulla qualità della vita. Tanto più in una popolazione che invecchia sempre più e quindi ha necessità e bisogno, domanda di salute sempre più urgente, sempre più impellente. Su questo campo, così come in generale nella medicina, la partita si gioca sulla prevenzione, sulla diagnosi percorso, su tutte quelle attività che possono evitare l'aggravarsi della patologia e quindi assicurare condizioni e qualità della vita buone al paziente, ma soprattutto, e questo è l'aspetto fondamentale perché deve proprio cambiare il paradigma, far capire che quando si investe in prevenzione, in diagnosi percorso, in cura di queste problematiche e si interviene in tempo utile prima che si aggravi irraperabilmente la malattia, non si guadagna solo in salute, in qualità della vita, ma si guadagna anche in risparmio per la comunità perché significa meno ospedalizzazioni, più autonomia per le persone e quindi meno danni sociali.